Accompagnare la ricostruzione fisica dei territori danneggiati dai terremoti con risorse dedicate per offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche nel segno della transizione ecologica e digitale e della prevenzione dei rischi, valorizzando l'ambiente, i beni culturali per dare all'Appennino Centrale una nuova prospettiva di popolamento e di crescita economica. Next Appennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 finanziato dal fondo complementare al PNRR per le aree sisma con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro, 700 dei quali e sono la maggior parte a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. Il convegno organizzato a popoli dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara è dedicato alla specifica misura B e punta a dare sostegno agli investimenti come avvio e crescita di microimprese e di PMI, sostenere turismo, cultura, sport e inclusione, oltre alla valorizzazione dell'ambiente. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, l'area è rappresentata dai comuni di Britoli, Bussi sul Tirino, Civitella, Casanova, Cugnoli, Farindolo, Montebello, Popoli e Torre dei Passeri. Questi territori di cui possono godere questi contributi sono stati già prima martoriati dal sisma, cosa grave, poi è arrivata la pandemia, poi è arrivata la guerra, però l'imprenditore ha l'obbligo di non arrendersi, di andare avanti e di guardare al futuro sempre con ottimismo e speranza. La giornata di oggi vuole avere il ruolo di illustrare a chiunque ne ha interesse eventuali dubbi di applicazione di come attingere a questi bandi, perché le occasioni sono tante. La responsabilità degli interventi è affidata ad una cabina di coordinamento composta dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini. Ci sono 11 bandi, ciascuno dedicato a un obiettivo settoriale o dimensionale dell'investimento e poi ci sarà anche a brevissimo il bando per le comunità energetiche in questi territori, insomma un programma molto ricco per far sì che chi vuole investire, chi vuole determinare opportunità di impresa, di lavoro, di crescita in questi territori lo possa fare alle migliori condizioni possibili.